Io continuerei con il secondo concorrente Chiamiamo sul palco Melinda Gramelli Vogliamo dare un grandissimo applauso? Eccola, Melinda Wow, eccola, che impegna Eccola, Melinda Melinda, tu da dove vieni? Daviella, fantastico Cosa ci canta, Tiziana? Allora, lei ci canta una canzone bellissima Strapolata dall'ultimo CD di Cristina Aguilera, giusto? No, non è l'ultimo CD Che anno? Back to basic Ah, quello con il doppio CD Oh, che bello Allora, il CD è molto bello Allora, rasta la piedi, perfetto Allora, con Mercy on me di Cristina Aguilera Canta, Melinda Gramelli Applausi Canta, Melinda Gramelli Canta, Melinda Gramelli Canta, Melinda Canta, Melinda Grazie. 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 Grazie.